Buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa delle 7.30 del mattino. Allora siamo in diretta, dunque ben ritrovati, in diretta per leggere i giornali, lo faremo tra un istante, il santo del giorno però subito in apertura, oggi è San Marone, è stato un'eremita e come riporta il libro dei Santi, edito da San Paolo, sappiamo poco della vita di questo santo, di Marone, un monaco eremita vissuto in Siria tra il IV e il V secolo. Comunque ancora oggi San Marone è venerato nelle regioni montuose della Siria e del Libano, ricorderete i marroniti insomma. Il sole è sorto alle 7.15, tramonta alle 17.29, il tempo per oggi, allora oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti nelle zone interne e brevi possibili rovesci, piovaschi, lungo i rilievi esposti ad ovest. In nottata avremo invece rovesci e temporali sparsi nel settore centro-settentrionale della regione, le temperature sono stazionari, i venti, attenzione, sono moderati. Poi nella seconda parte della giornata, oggi pomeriggio, arriverà il vento forte fino a burrasca forte sul settore collinare e centro-settentrionale e tempesta addirittura nelle zone interne, quindi attenzione al forte, fortissimo vento che arriverà da oggi pomeriggio in poi. Domani, mercoledì 10 di febbraio, oggi intanto è l'ultimo giorno di carnevale, lo ricordiamo, domani mercoledì delle ceneri comincia il periodo quaresimale, siamo dunque nel periodo della quaresima, ancora tempo instabile, addirittura la neve vedete sui sibillini, insomma il limite delle nevicate sarà attorno ai 1.500 metri, poi in calo fino a 900.000 metri. Per la giornata di domani invece di giovedì il tempo cambierà e quindi si rasserenerà, avremo il cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature lieve aumento. Il fine settimana invece sarà caratterizzato da tempo instabile per il flusso, il transito di flussi di origine atlantica. Andiamo allora a leggere i giornali, cominciamo dal messaggero. A Pesaro le buche fanno gola a 200 ditte, l'amministrazione smobilizza 7 milioni e mezzo di euro o di fondi per risistemare l'asfalto, partono gli appalti e i lavori, centinaia di aziende in gara si comincia dalle strade del centro storico. Il messaggero pubblica a centro pagina una foto di questo attore, Russell, che fuma pesarese perché le pippe del maestro De Paia arrivano sul grande schermo, protagoniste appunto di un film e la pippa è appunto realizzata da questo maestro pesarese. Un falso orafo truffava gli anziani, Bombolo finisce in manette, colpito da tre ordini di carcerazione, è stato rintracciato a Verbagna. Su di lui pendevano tre ordini di carcerazione delle procure di Pesaro Urbino e quelle di decine di truffe ad anno di anziane, è stato ritrovato a Verbagna, sul lago Maggiore. Ok, andiamo adesso sull'altra pagina del messaggero, Banca Marche, la regione Marche al processo sarà parte civile, Cesetti dice ci sentiamo in obbligo di tutelare l'intera comunità e domani si vota la commissione di indagine e sono pronti i nomi. Oltre 200 ditte, l'abbiamo visto, a Pesaro pronte per asfaltare le strade pesaresi, dunque troppi invece mendicanti in centro ci vuole un giro di vite. Lo chiede il segretario di Confcommercio che sollecita l'intervento di forze dell'ordine e anche quelle del prefetto. Anche qui vedete la fotografia, Quentin Tarantino e Kurt Russell a Roma, la presentazione del film, poi Alberto Montini invece in questa immagine che dice me ne sono accorto guardando il trailer del film di Tarantino, nella scena ha utilizzato un suo pezzo personale venduto gli otto anni fa. L'altra pagina, la Fano Grosseto, al Partito Democratico piace leggera, riparte il dibattito con i vertici dei democratici che incontrano sindaci e amministratori dei territori interessati all'infrastruttura. Poi la cronaca, o meglio senza paga e con il lavoro a rischio, gli addetti alla lettura dei contatori, in sciopero i dipendenti della sede pesarese, sono coinvolte 22 lavoratori. A fine mese invece a Mondolfo aprirà la Casa della Salute. La pagina di Fano, nuovo ospedale, pressing sui fondi, da oggi si può cominciare a lavorarci sopra. Riforma sanitaria, la Fulvi stoppa i grillini sull'adesione al referendum abrogativo. Il consigliere regionale Carloni dice basta alibi sia Ceriscioli che l'assessore Cesetti hanno ribadito che le risorse ci sono. La giornata del ricordo invece a Fano, lo scrittore Diego Zandel sarà l'ospite del Consiglio Comunale convocato domani alle 9, a Fano nella Sala Verdi del Teatro per commemorare la giornata del ricordo. I furti, colpi nelle case, caccia all'audi grigia dopo la psicosi dell'audi di colore giallo che ha fatto impazzire per tutto il mese di gennaio le forze dell'ordine del nord-est, a Fano c'è adesso chi segnala questa Audi 4 grigia ed è legata a una serie di furti, due in particolare nel quartiere di Sant'Orso a Fano, furti che sono stati segnalati e denunciati nell'ultimo fine settimana. Poi sulla ex caserma ed ex Agip c'è l'alto là dei 5 Stelle, sapete che c'è il distributore che è chiuso ormai da diversi mesi, lì si sta ragionando su cosa farci, interviene in questo dibattito, intervengono i consiglieri di Fano 5 Stelle, di Fano 5 Stelle che dicono un po' la loro e riaccendono in qualche modo il dibattito. Poi a proposito di accensioni, ecco qua il martedì grasso che brucia oggi pomeriggio, brucerà il pupo in piazza 20 settembre con il tradizionale rogo, oggi pomeriggio in piazza 20 settembre chiude tre settimane di festeggiamenti con numeri da record, speriamo che il vento non complichi le cose. Andiamo adesso invece sul Corriere Adriatico, anche qui si parla del rogo alle ore 18, che trasmetteremo tra l'altro in diretta su Fano TV, poi dalle 15, festa in piazza con la Borghetti Bugaron Band ed estrazione della lotteria. In futuro ci sarà anche un carro dedicato alle Wings. A proposito di nuovi carri, ecco la notizia della quale si era già parlato e oggi quindi diventa quasi ufficiale nel 2017, quindi il prossimo anno, sfileranno su Viale Gramsci quattro carri completamente nuovi. Il Presidente Cecchini anticipa già le novità per il prossimo carnevale, per il ruolo di direttore ci sono già contatti e avviati con Renzo Arbore. Poi sotto le maschere premiate al Valleon della Gruppa si parla anche di promozione, la promozione ha funzionato, un afflusso di gente mai visto, valore ai maestri della cartapesta. Sull'ospedale unico i soldi ci sono, anche qui la sanità sulla pagina di Fano del Corriere, l'assessore regionale Cesetti conferma le parole di Ceriscioli sul mutuo, Carloni dice fatto dirimente. Sotto istanza per il referendum, Fulvi dice no, la Presidente del Consiglio Comunale di Fano esclude che ci siano i tempi tecnici per accogliere la richiesta del Movimento 5 Stelle, si trattava di inserire nella seduta di giovedì quattro proposte di delibera per l'adesione del Comune. Andiamo sull'altra pagina del Corriere, Marotta, Marotta fra Incompiute e Dissesto, il Tour dei 5 Stelle nella parte nord del Comune, focus sul problema degli allagamenti. Sulla Colle Marathon in vetrina da Milano a Chattanuga, settimane intense per l'organizzazione, appuntamento per il gemellaggio in Tennessee, poi alla BIT che è la Borsa Internazionale del Turismo tra gli eventi di punta della Regione. Andiamo sulla pagina di Pesaro invece del Corriere Adriatico, sgarbi e foschi nel mirino del Partito Democratico, dubbi sulla consulenza al critico e sulla presenza della consigliera all'area vasta. Il gruppo vuole chiarimenti sulla partecipazione della Presidenza alla conferenza dei sindaci. Poi sull'altra pagina invece, la vediamo subito, quella di Pesaro, eccola qua, una rivoluzione racchiusa in due strade. Via Toscana, siamo a Pesaro, via Toscana e via dell'Acquedotto, l'assessore De Regis spiega i progetti e tenta di calmare gli animi. Riscossione, crediti, verde e cimitero, adesso Vallefoglia si affida all'Aspe, su Chielli abbandona Equitalia per rendere meno rigida la procedura. Anche qui la cronaca, arrestato Bombolo, mago di furti e truffe, bloccato a Verbagna, latitante da otto anni. Tampona e se ne va, rintracciata da una vigilessa, automobilista fotografata, anzi un automobilista fotografa la targa di questa auto che stava scappando, sull'altra una ragazza con due bambini. Apriamo la pagina di Fano del resto del Carlino, shopping senza pagare, con la borsa schermata, zingere rincorsi e presi, nel mirino diversi negozi del Corso. Poi l'altra notizia invece, i nostri 90 anni, guardate dai campi alla fornace con il Rosario, Tina Primavera Paolini, cinque figli e tanta fede, tutte le mattine, dice la signora sorridente in questa fotografia, tutte le mattine vado a messa, vedi, chissà che sia questa la ricetta, anche per arrivare così sorridenti, felici a questa età. Quindi c'è una pagina intera con l'intervista a questa signora. Allora andiamo adesso invece sulla pagina di Fano del resto del Carlino, c'è la storia di Mario, scusate di Macio, Macio Mercanti, Massimo, detto, conosciutissimo a Fano, Macio Mercanti, il bagnino che non può stare al sole, dice lui, ho vinto però la battaglia più difficile, Mercanti ha sconfitto un carcinoma causato dai raggi ultravioletti, oltre a fare il guardia spiaggia è stato allenatore di calcio alla Vispesero e Alma Fano. C'è tutto da leggere, questa mattina che porta la firma di Amedeo Pisciolini. Poi, addio crisi, ristoranti torna il pienone, l'analisi di Pettinelli e Mezzotero, e poi via i piccioni dai siti d'arte nel mirino le tombe malatestiane. Questo è un problema ormai annoso di questi piccioni che rovinano i monumenti. Picchia la moglie, condannato, torna e ricomincia, cazzotti in faccia e mani intorno alla gola, di nuovo in manette, un albanese di 66 anni, ha maltrattato, picchiato, ingiuriato la moglie per una vita intera e quando la rivista, dopo un lungo periodo di lontananza, ha fatto peggio del solito, prendendola a pugni e stringendola, con violenza al collo, segnato da profondi lividi. L'autore di queste barbari è un albanese di 66 anni, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Marotta. Sempre dal giornale del resto del Carlino, gli altri titoli, provinciale con la Brodo, le auto ci lasciano le borchie, e a Pergola, biblioteca multimediale online, critiche strumentali. La provincia che sarà sbantellata deve trasferire le competenze ad un altro ente. Un'auto con due bambini a bordo è stata urtata da un'altra macchina che però al posto di fermarsi, cosa fa? Fugge. Questa macchina è stata fotografata da alcuni testimoni e poi fermata dai vigili. Si tratta di una urbinate che è stata sorpresa. Aveva 1,50 nel sangue, quindi insomma era abbastanza ubriaca questa qua. Bloccata dopo due ore, dice lei vero, sono io quella dell'urto. Poi è stato fatto l'alcol test, dal quale appunto è uscito fuori, che aveva 1,50 nel sangue. Poi c'è un flash sul MotoGP che tra l'altro sta per ripartire. Rossi Marquez, divorzio ufficiale e ricomincia la bagarre. Chiudiamo con l'ultima pagina del resto del Carlino. Eccola qua, corro al festival. Quando mi ricapita, dice Giuseppe Ottaviani, alla soglia dei 100 anni, ospite nella giornata inaugurale, il pluriprimatista mondiale di atletica leggera master, si racconterà al festival di Sanremo. Voglio dire a tutti che essere, dice lui, ottimista e fare una disciplina sportiva allunga la vita. E sarà dunque ospite al festival della canzone italiana. Tra l'altro ricorderete, insomma, sapete tutti che Giuseppe Ottaviani è di Sant'Ippolito, che il 20 maggio taglierà il traguardo dei 100 anni e sarà appunto tra gli ospiti della serata inaugurale del festival di Sanremo di questa sera. Allora, la rassegna stampa finisce qui. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata. Vi ricordo che questa sera abbiamo il telegiornale alle 20 e 30 con tutte le notizie del giorno e il nostro sito internet occhianotizia.it con le notizie aggiornate invece in tempo reale. E non dimenticatevi anche che abbiamo gratis la nostra applicazione per Google Play, su Google Play e su Apple Store, quindi per i cellulari Android e per gli Apple. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'auguro di una buona giornata.